Cari amici, ben arrivati in questo nuovo video nel quale vi parlo del 20 mm f1.4 di GDN serie Art di Sigma. Ma prima di entrare in argomento e di raccontarvi nel dettaglio come si comporta questo 20 mm f1.4 di Sigma, ti ricordo di iscriverti al canale e di spuntare la campanellina per rimanere aggiornato su tutti i nostri contenuti. Ti ricordo anche che in descrizione a questo video lasciamo i link alle pagine e i video di presentazione dei nostri corsi online, corsi ovviamente di fotografia online che puoi scaricare sul tuo computer, vederli e rivederli senza limiti di tempo. Vai nelle pagine e troverai tutti i dettagli. Allora ragazzi, torniamo a parlare di questo 20 mm DGDN. Allora, prima premessa, in Sigma la linea DN sta ad indicare, di GDN, quindi DN in uno specifico, sta ad indicare che sono obiettivi progettati e pensate per fotocamere mirrorless, in questo caso per fotocamere mirrorless full frame. Ma ovviamente se avete Sony, dato che è disponibile con attacco E-mount e L-mount, potete anche utilizzarlo su fotocamere APS-C. Questo è scontato. Quindi serie DGDN, quindi progettato per fotocamere mirrorless serie ART. Sapete, in casa Sigma ci sono due macro, diciamo, linee di prodotto. La linea ART, dove troviamo obiettivi pensati per avere la massima qualità di immagine e diaframmi molto luminosi, e la linea Contemporary, pensate invece per avere sempre grande qualità di immagine, ma obiettivi più trasportabili, più compatti, più pratici. Infatti in casa Sigma troviamo già per fotocamere mirrorless delle ottiche 20 mm come focale, ma con diaframma più chiusi f2 e 3.5 appunto della linea Contemporary. In questo caso parliamo di un obiettivo decisamente luminoso f1.4, quindi è un obiettivo diciamo straordinario per la categoria di queste focali, cioè 20 mm, ma è un obiettivo, come vedremo, interessante anche nel mondo video, dove il 20 mm, insomma, è una focale piuttosto comoda, visto il rapporto 16 noni o 17 noni. Allora ragazzi, perché reputo questo 20 mm interessante? Beh, prima di tutto perché è una serie ART, quindi è luminoso, ha una grandissima qualità di immagine, perché tropicalizzato, questo è molto importante, può essere usato quindi in ambienti complicati, 20 mm è anche molto adatto alla fotografia di paesaggio, ovviamente, perché ha delle funzioni interessanti come il blocco della ghiere di messa a fuoco con l'MF-Lock, vi farò vedere fra poco nel dettaglio la qualità costruttiva, è interessante anche la compatibilità piena dell'autofocus con tutti i sistemi moderni presenti sulle fotocamere mirrorless, sia per quanto riguarda l'autofotografia che il lato video, obiettivo, dicevo appunto, luminoso, ghiera dei click e decliccabile, quindi per togliere il rumore, insomma, del click della ghiera che si muove, tra l'altro avere la ghiera è sempre qualcosa di, a mio giudizio, molto piacevole, molto positivo, molto pratico, perché tutto sommato, ragazzi, è un obiettivo compatto, abbastanza compatto, abbastanza trasportabile e, non ultimo, per me è una cosa molto importante, soprattutto per le persone che sono appassionati di astrofotografia, la possibilità di inserire i filtri posteriori, penso ai filtri soft nell'astrofotografia, oltre che inserire i filtri anteriori, la lente non è conversa, quindi potete tranquillamente inserire il vostro filtro anteriore senza aver bisogno del loader e questo significa risparmiare veramente tanto spazio. Andiamo a vedere i dati tecnici di questo 20 mm, attacco, come vi dicevo, le mount e i mount, schema ottico 17 lenti in 15 gruppi, 2 lenti SLD e 3 lenti asferiche, 11 lamelle di diaframma, veramente tante, apertura minima f16, come dicevo, sistema autofocus compatibile con tutte le modalità video e messa a fuoco automatica, stepper motor come sistema, abbiamo anche nel 20 mm, come nel 24 mm, nel nuovo 24 mm, il blocco della chiera di manual focus, filtri alloggiamento sia anteriore che posteriore, distanza minima di messa a fuoco solo 23 cm, fattore di ingrandimento 1.6, diametro filtri 82 mm, dimensioni 8.7 x 11,2 cm, peso 630 grammi, vedete a destra i grafici mtf insomma che parlano da solo, in alto potete vedere le guarnizioni per la tropicalizzazione di questo obiettivo. Detto questo ragazzi andiamo a vedere la qualità costruttiva e analizziamo anche il comportamento nei test fatti di questo 20 mm 1.4 di GDN. Il 20 mm è dotato di una comoda ghiera e dei diaframmi, ogni diaframma è diviso per terzi di stop, facilmente avvertibili, è davvero molto precisa la ghiera, è possibile anche utilizzare la modalità A, attraverso il quale dalle ghiere della fotocamera si possono modificare ovviamente i diaframmi come in una comune diciamo fotocamera mirrorless o reflex. Lateralmente abbiamo anche un tasto per bloccare nella modalità A il diaframma, in questo modo si evita che il diaframma venga mosso inavvertitamente, è comoda questa funzione di sicurezza. Poi abbiamo tutta una serie di comandi laterali, cominciamo dalla comodissima e larghissima ghiera per la messa a fuoco manuale dotata di una gomma di rivestimento, abbiamo il tasto ovviamente per switchare dalla modalità autofocus a messa a fuoco manuale, un tasto AF-lock o comunque sia programmabile su alcune fotocamere e poi la nuovissima funzione di manual focus lock, in questo modo si evita che la ghiera di messa a fuoco venga mossa inavvertitamente. Abbiamo poi un tasto per deselezionare i click, cioè togliere in sostanza il click quando si ruota la ghiera di diaframma, è utile ovviamente per i videomaker. Per quanto riguarda la lente frontale non è convessa, quindi si possono utilizzare filtri non all'astra ma insomma filtri circolari normali con un grosso risparmio di denaro e di spazio, in più come sul 24 mm è presente oltre alla ghiera di guarnizione per la tropicalizzazione lo spazio per l'inserimento dei filtri posteriori. Vi faccio vedere anche i numerosi pin che sono presenti sull'obiettivo e qui lo spazio per i filtri posteriori. Qui vi faccio vedere il 20 mm a fianco al nuovo 24 mm N4, vedete che il 20 mm è un po' più grande, circa un centimetro più grande di lunghezza e un diametro sicuramente più grande, 72 contro 82 del 20 mm, quindi un obiettivo un po' più impegnativo sul piano della trasportabilità, però abbiamo un 20 mm N4, quindi una lente da questo punto di vista unica, straordinaria, credo una focale molto molto comoda soprattutto per i videomaker, vedete ci sono gli stessi tasti di comando, entrambe fanno parte della linea arte, quindi massima qualità d'immagine, andiamo a vedere. Bene ragazzi, iniziamo dalla nitidezza a infinito del 20 mm F1N4, il diaframma lo vedete sempre in alto a destra, c'è la triede sposimetrica, andiamo a togliere l'icone così l'immagine diventa più grande, andiamo a ingrandire e vediamo il dettaglio, siamo al 100% di ingrandimento in questo momento, allora vedete che a infinito il 20 mm si comporta molto bene, effettivamente il dettaglio è molto buono, andiamo a vedere nel bordo esterno, tagliamo l'alert delle ombre così si vede meglio, direi dettaglio buono anche se evidentemente rispetto al centro perde un po' di nitidezza, insomma di risolvenza, però insomma il comportamento considerando che si tratta di un 20 mm mi sembra veramente molto buono, vedete gli uccelli qui in alto sono assolutamente nitidi, comportamento 1,4 sicuramente convincente. andiamo adesso a F2, andiamo a vedere al centro mi sembra che diventa sicuramente più inciso l'obiettivo, la resa dell'obiettivo e al bordo direi che migliora effettivamente la resa del 20 mm N4, andiamo a vedere anche da quest'altro lato, direi sicuramente già chiudendo di uno stop si possono ottenere risultati migliori anche al bordo del fotogramma. andiamo a F2,8, andiamo a vedere subito il bordo che risulta nettamente più nitido, i dettagli più fini sono decisamente più visibili e anche al centro insomma mi sembra evidente che il dettaglio fine è sicuramente più visibile e presente, quindi comportamento a 2,8 direi già quasi perfetto. andiamo se chiudendo a F4 la situazione migliora ulteriormente, andiamo a vedere, si effettivamente a F4 diventa ancora più pulito, più nitido, più risolvente al centro del fotogramma e il bordo diventa praticamente perfetto, quindi diciamo che già da F4 avete una nitidezza di fatto costante dal centro al bordo del fotogramma, quindi un comportamento davvero molto buono, vedete anche qui si cominciano a vedere i dettagli delle scritte, quindi insomma un potere risolvente sicuramente buono. andiamo a 5,6, vediamo qual è il punto di massima performance di questo obiettivo, vedete le scritte qui sul cartellone sono ancora più leggibili, quindi c'è un ulteriore miglioramento in termini di risolvenza dell'obiettivo, la nitidezza rimane sempre elevatissima, quindi il comportamento è davvero molto molto buono di questo 20 mm. Andiamo a F8, F8 perfetto ovviamente al centro e al bordo, vedete non si acquista ulteriore risolvenza, quindi diciamo che tra 5,6 e F8 a mio giudizio si ha il massimo delle performance di questo 20 mm, che comunque risulta essere veramente molto nitido, almeno a infinito. Andiamo a vedere F11, qui non mi sembra che ci sia un guadagno, anzi si comincia a percepire una leggera calo di nitidezza, insomma il file risulta appena più impastato, quindi un po' di diffrazione comincia a essere evidente, pochissimo, pochissima cosa, insomma siamo sempre al 100%, ma insomma è evidente che dopo F8 l'obiettivo comincia a calare un pochino. Proviamo ad andare a F16 che è il diaframma di chiusura massima dell'obiettivo e si vede insomma che la diffrazione diventa più evidente. Niente di drammatico, onestamente, anzi il comportamento è molto buono, però insomma il comportamento, la diffrazione mi sembra piuttosto evidente sia al centro che al bordo del fotogramma. Vediamo questo 20 mm, come si comporta le medie distanze, intorno ai 4 metri di distanza. Andiamo a ingrandire per renderci conto, qui siamo a 1.4, ecco, adesso siamo a 1.4, il diaframma lo vedete sempre in alto a destra, direi che alle medie distanze questo 20 mm è già piuttosto aggressivo, utilizziamo questo termine al centro del fotogramma, vedete molto buono il contrasto, anche il micro contrasto è insomma assolutamente convincente, non è ancora graffiante, ma insomma ne direi che la performance a già tutta l'apertura di questi 20 mm al centro e anche il bordo del fotogramma è convincente, considerando il diaframma 1.4. Andiamo a f2, vedete che il micro contrasto migliora, sicuramente al centro, andiamo a vedere al bordo del fotogramma, sì, anche al bordo del fotogramma rispetto a 1.4 è migliorato, vediamo con un diaframma ancora più chiuso a 2.8, mi sembra che sia un netto miglioramento del comportamento complessivo di questo obiettivo in termini di risolvenza, dettaglio, contrasto e anche i bordi diventano quasi perfetti. Andiamo a f4, vediamo se è f4, sì, vedete che il bordo a questo punto diventa praticamente perfetto, quindi diciamo che per avere una resa costante centro-bordo bisogna chiudere 2.8 f4, però come avete visto già a 1.4 il comportamento è davvero molto buono di questo 20 mm. Andiamo a 5.6, 5.6 la performance a questo punto diventa assolutamente costante al centro e al bordo, quindi 5.6 mi sembra il diaframma forse perfetto per questo obiettivo, vediamo se f8 guadagna qualcosa, sostanzialmente mi sembra che rimanga identico a 5.6, quindi diciamo da 5.6 a 8 si ha il massimo delle prestazioni dell'obiettivo, vediamo se a f11 inizia un po' di diffrazione come infinito, sì qualcosina ma veramente appena appena percettibile, quindi di fatto non ci sono grossi problemi. Andiamo a f16, ecco qui la diffrazione, anche le medie distanze, vedete che diventa sicuramente più evidente sia al centro che al bordo, insomma l'immagine appare un pochino velata, meno contrastata. Passiamo ora ragazzi a vedere la nitidezza alle distanze, alla distanza minima. Siamo col 20 mm, lo ricordiamo sempre, f1.4, il diaframma lo vedete in alto a destra, andiamo a ingrandire e devo dire che anche alla distanza minima, notate tra l'altro il fattore di ingrandimento, notate lo sfocato, davvero minimo a queste distanze, comunque vedete che tutto sommato il comportamento è buono, c'è un po' di calo di contrasto, un po' di calo di microcontrasto, però il comportamento alla distanza minima di questo 20 mm è assolutamente convincente. Vediamo con un diaframma di lavoro, sempre alla distanza minima f11, dove già in realtà inizia un pochino di diffrazione, ma insomma per farvi vedere, f11 è spesso un diaframma piuttosto usato anche nella macrofotografia, comunque vedete che il dettaglio è sicuramente molto molto buono, il microcontrasto, insomma mi sembra assolutamente convincente la performance di questo 20 mm alle distanze minime. Allora, vediamo come si comporta questo 20 mm in termini di aberrazione, allora andiamo a ingrandire al 200%, così si vede meglio la nostra croce, beh, aberrazione piuttosto contenuta, c'è qualche cosina, effettivamente vedete una leggera aberrazione sul verde, però insomma anche qui lo vedete, insomma il comportamento davvero notevole, considerando che non siamo a 1.4, qui era troppo luminoso, andavo in sovraesposizione violenta, ho dovuto chiudere appena il diaframma, ma comunque 1.7 è di fatto praticamente a tutta apertura, insomma aberrazione piuttosto contenute di questo 20 mm. Vediamo ora la distorsione del 20 mm, insomma focale ovviamente che è soggetta a fenomeni di distorsione, qui siamo a circa 6-7 metri dalla porta, vedete che la distorsione a barilotto è presente, non è assolutamente mostruosa, insomma comportamento assolutamente gratificante, ecco, utilizzerei questo termine da parte del 20 mm, considerando che appunto siamo con un'ottica iper grandangolare. Vediamo il 20 mm come si comporta per quanto riguarda il flare, ho messo questa luce intensa all'angolo del fotogramma, siamo a 1.4 e vedete che si comporta molto bene, certo c'è un po' di perdita di contrasto proprio qui nelle zone più luminose, ma insomma il comportamento è veramente ottimo, non ci sono fenomeni particolarmente invadenti, invasivi o che vanno a degradare l'immagine, quindi comportamento a 1.4 molto buono, andiamo a vedere F16, intanto possiamo apprezzare l'effetto stella, assolutamente convincente, molto bello, un po' di coma appena appena, ma insomma veramente molto bello l'effetto che si ottiene, grazie anche alle lamelle del diaframma, al numero elevato di lamelle. Allora flare, flare che è sicuramente più presente rispetto a 1.4, lo si può vedere, insomma ci sono un po' fenomeni di flare, però considerando che questa è una zona nera, volutamente ho posizionato, insomma ho fatto un'inquadratura in questo modo per far rendere più evidente il flare, però vedete il contrasto è sicuramente molto molto buono, ci sono un po' appunto di fenomeni eletticolari nella nostra immagine, ma niente di assolutamente drammatico, secondo me il comportamento di questo 20 mm è lodevole. Vediamo il 20 mm come si comporta per quanto riguarda la vignettatura, partiamo da 1.4, vignettatura decisamente presente, insomma credo che ci sia bisogno di commentarlo, vignettatura che comunque è abbastanza progressiva fino al centro del fotogramma, ma guardate che già chiudendo è di uno stop, qui siamo a f2, vedete quanto la vignettatura si riduca sensibilmente, a 2.8 migliora ulteriormente proprio i bordi del fotogramma, quindi rimane sostanzialmente costante poi andando fino a f11, dove la vignettatura è appena percettibile, ma insomma sicuramente non marcata. Comunque a 1.4 la vignettatura è presente e va tenuto conto, è vero che si può risolvere facilmente con qualsiasi software di correzione, se non addirittura con il software della fotocamera, quindi in camera stessa. Allora andiamo a vedere come si comporta il 20 mm dal punto di vista dello sfocato, certo il 20 mm non è un'ottica pensata per ottenere degli sfocati particolarmente accattivanti, però un 1.4 ovviamente influisce, e lo si vede già da questa prima foto, siamo alla distanza minima, vi posso garantire che tra la statua e la colonna dietro, dove ci sono anche delle scritte, la distanza massima sarà stata di 60-70 cm, quindi già vedete quanto riesce a sfocare, insomma ovviamente la distanza avvicinata, lo sfondo, sfondo quindi posto a distanza media, e distanza molto più, molto maggiore, dalla statua nitida in primo piano. Quindi potete insomma farvi un'idea, guardate anche qui, queste sono delle sbarre di metallo con delle sfere in ottone, qui potete vedere anche un po' l'effetto, che si ha al bordo del fotogramma, con degli elementi circolari, nitidezza, vedete, davvero esemplare, alla distanza minima, ce ne avevamo già accorti, guardate questo filo di ragnatela, perfettamente leggibile, anche il micro dettaglio, il micro contrasto è davvero molto buono, comportamento del 20 mm, alla distanza minima davvero lodevole. Qui invece un ritratto del nostro Roberto, fatto in un, vedete, un mezzo busto, vi ho messo il volto anche un po' sul bordo del fotogramma, per farvi, come dire, valutare anche la, come dire, distorsione dovuta al 20 mm, distorsione che c'è, è evidente, anche insomma, il naso sembra più grande del normale, ma comunque secondo me non è niente di drammatico, invece è eccellente, il comportamento sempre a 1.4 di questo 20 mm, a tutta apertura, guardate come si comporta bene, in termini di nitidezza, contrasto, veramente molto buono, anche lo sfocato è piuttosto piacevole, diciamo un comportamento moderno, ecco, utilizzerei questo termine, in termini di sfocato, guardate, già qui, il secondo occhio più distante, già fuori fuoco, così la punta del naso, nonostante abbiamo un 20 mm. Valutiamo adesso la progressione dello sfocato, cioè l'andamento dello sfocato, dalle zone fuori fuoco, alle zone a fuoco, e poi di nuovo fuori fuoco. Allora, vedete, queste sono le zone più fuori fuoco, appena appena nervoso, lo sfocato, ma insomma, direi che tutto sommato, ripeto, un comportamento assolutamente coerente con le ottiche di oggi, la progressione nella lato anteriore, tutto sommato, buona, qui è la zona nitida, vedete, a 1,4, insomma, il dettaglio abbiamo visto che è molto elevato, e poi la progressione nelle zone fuori fuoco, più lontane. Direi che in 20 mm, ripeto, come in termini di sfocato, mi sembra un comportamento abbastanza moderno, però, onestamente, comportamento davvero interessante, soprattutto per anche i videomaker, che magari, insomma, in 20 mm è un angolo di campo molto utilizzato, e grazie all'1,4 possono ottenere anche un risultato un pochino più creativo. Allora ragazzi, avete visto come si comporta questo 20 mm f1,4 Sigma, insomma, comportamento direi molto 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 buono, quindi a chi consigliamo questo obiettivo? Beh, prima di tutto, come ho detto per i 24 mm, agli astrofotografi, insomma, mi sembra che coloro che sono appassionati di astrofotografia godranno, letteralmente parlando, per poter utilizzare dei filtri a vite senza utilizzare degli holder, e per poter utilizzare anche dei filtri sulla parte posteriore, quindi per migliorare ulteriormente la qualità delle proprie foto, la luminosità, la tropicalizzazione, è un obiettivo comunque molto adatto anche al paesaggio, se vogliamo, al matrimonialista, al reportaggista, quindi un obiettivo molto versatile, grazie all'angolo di campo e alla luminosità. È un obiettivo che si comporta veramente molto bene anche dal punto di vista video, perché 20 mm è davvero molto comodo, c'è anche il declic per togliere il rumore, insomma, del click, sistema messa a fuoco perfettamente compatibile lato video, quindi un obiettivo molto versatile, un obiettivo tutto sommato, insomma, trasportabile, compatto, per essere appunto un 20 mm 1,4, e si vede che è un obiettivo per fotocamere mirrorless, quindi assolutamente consigliato, se la recensione ti è piaciuta, metti un like, e ti ricordo anche che in descrizione ci sono i link alle pagine dei nostri corsi di fotografia. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!